In uno splendido palazzo che si affaccia sulla piazza del Duomo di Pietrasanta, si trova il museo archeologico Bruno Antonucci. Dalle primissime testimonianze paleontologiche dell'età del rame, esposte nella prima sala del museo, potrai fermarti a osservare la ricostruzione di un antico insediamento etrusco con le caratteristiche capanne dal tetto di paglia e le barche utilizzate per navigare sul lago che era situato sulle rive del lago Massaciuccoli. Molto variegata è la collezione di manufatti che comprende oggetti di uso quotidiano, su pellettili, terrecotte decorate, contenitori per alimenti, frammenti di anfore che nel loro insieme ci permettono di immaginare la vita delle popolazioni etrusche. Testimonianze storiche e archeologiche di pregevole valore che ci permettono di comprendere l'amore e la passione con cui il professor Bruno Antonucci si dedicò alla ricerca di reperti del passato arricchiti da numerosi appunti, fotografie e documenti. Un museo straordinario che ci ricorda come la cultura sia spesso il risultato dell'impegno di uomini e donne capaci di donare i semi di un'antica conoscenza da cui può germogliare il nostro futuro. Grazie per la visione!